Nuova pubblicazione per il maceratese Guido Garufi, filigrani, canzonieri apocrifo, affinità elettive. Come nasce questo lavoro? È anche un po' autobiografico? Sì, è anche un po' autobiografico. Come nasce? Diciamo, ci ho messo quasi tre anni. È un romanzo letterario, ovviamente, che intercetta vari passaggi della mia vita. Ci sono vari passaggi dove io dico di essere stato casualmente complice di intercettazioni persone, uomini, donne, che si rivolgevano casualmente a me in particolari momenti di travaglio, di svolta della loro vita. Faccio riferimento, ovviamente, a grandi autori, ma li spiego in maniera molto didascalica, perché non voleva essere, non è un romanzo colto. È stato recensito abbastanza. Più di recente sono uscito anche su Panorama, quindi significa che piace. Naturalmente può piacere solo al lettore sensibile. Non è un libro che ha una trama, Francesco scendeva perché lo è stato sgozzato, non è un giallo. Diciamo è il giallo della vita, perché tutti abbiamo dentro di noi, uomini, donne, un canzoniere apocrifo. Noi non riveliamo tutto di noi. Siamo maschere, in senso bello del termine, a parte il lockdown, perché la vita, l'esistenza, ci impone dei ruoli. Adesso mi intervisti, io faccio l'autore, è vero, ma noi abbiamo qualcos'altro che non diciamo, dentro di noi che si è sedimentato nel tempo, da tanto tempo e che non abbiamo, non dico il coraggio, abbiamo la timidezza, ma a volte abbiamo anche la paura di dirlo a noi stessi, di dirlo a noi stessi. Questo libro, quindi, è un libro propriamente terapeutico, direbbe Platone, è un farmacon, è un farmacon forse migliore dei vaccini e non costa tanto quanto i vaccini. L'aver percorso la mia autotrattino bio-grafia è stato anche per me una autotrattinoterapia. Questo libro, filigrane, è una chiave, per me lo è stata, lo spero anche, per il lettore, di autorivelazione. ma io penso che almeno in questo io sia riuscito a dire qualcosa di più di quello che ho sempre detto in poesia tutto qui.